O Cristo, sto cibo in Tosaleo. O Cristo, sto cibo in Tosaleo. O Cristo, sto cibo in Tosaleo. la volontà c'è l'era. Ciurico. All'esso geste osservi più serena tu soccanico. Ma ne poste le uomini, ma poste le sue. C'entra tusnibuttu, tu siedri che plonnotta, c'entra il pedo. Plonni. E' un soccanore sta dire subito mia nonna. Mi plosete, ma pranissete. Non pesete stippira. Gli ha ditto noi ma è nanzunito, ma dò sò ma è nanninato. Il tema vale c'è per calis le unità volata in searoghia. Gli uri se ma pare c'è tu sì perché plonnotta gli ha ditto da madre a tu in San Balea. C'è il tema non pare se trispone c'è così. Plose tesi, ci accupisete. Canì, ma è sta sei ora. C'è tu pedito altro perché vedo meno sta fieri a tutto scattarato. Scotiste sa pane, nà, nà, te stanzi ci roccano per tradere. Gesù Gesù, nell'orto dagli uletti. Poi giù sero il tuo potere, detto Gesèmani. Ed egli disse al suo discepolo, sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro e i figli di Zerbeteu e cominciò a essere spaventato per la coscienza. E disse a loro, l'armonia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e via. Andato un po' più avanti, si accettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da loro. Dicevano, Appà, parla, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Però, non quello che io voglio, ma quello che io voglio. Poi venne, gli trovò che dormivano e disse al dietro, Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è il tempo. Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, gli trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesaltiti. venne la terza volta e disse loro, dormite pure ormai e riposatevi. Basta. L'ora è venuta. Ecco il figlio dell'uomo che consegnava nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce e vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.